Dopo la sferzante intervista del sindaco di Polistena Michele Tripodi, rilasciata qualche giorno fa alla nostra emittente, in cui paventava un'alleanza in vista delle amministrative di maggio tra il centro-sinistra polistenese, la cui candidata alla carica di sindaco e l'esponente di SEL, Anna Giancotta, con alcuni esponenti del centro-destra è arrivata alla nostra redazione la smentita del consigliere di minoranza del comune pianigiano Vincenzo Pisano. L'esponente politico, candidato alla carica di sindaco di cinque anni fa con il centro-destra, nella smentita afferma di essere spettatori interessato come elettore della cittadina di Polistena, ma non parte attiva alle dinamiche politiche per le amministrative di maggio. Si sente estraneo a quanto riportato nel servizio mandato in onda nei giorni scorsi, non sapendo nulla di accordi o eventuali intese o delle voci che lo hanno tirato in ballo vedendolo in un sodalizio politico con la coalizione guidata dalla candidata di centro-sinistra Anna Giancotta. Pisano, contattando la nostra redazione, ne ha smentito gli scenari formulati dicendosi completamente disinteressato al panorama politico attuale, sconfessando le voci e le tante dicerie che stanno affiorando in questi giorni in vista delle elezioni comunali di maggio nella cittadina di Polistena.